musica fa tipo tu non hai visto questa parte no infatti che storia ah sti idiosi è tutto più bello più mal faccio il popo più più sexy oh cazzo perchè non sparano c'è molto a luce dov'essere noti chi qua ci serve il piccone di diamante per prendere un euro dietro no non è vero che ci sta è vero si c'è ragione ma io mi ricordo che una volta si poteva spaccare eheheh fix sul serio no non è vero si sta spaccando si ma non c'entra quel pezzo hero stai spaccando il pezzo sbagliato comunque stai spaccando il pezzo sbagliato non c'è nessuno che sale come irox che viene come irox che va come irox e che cazzo è sta zucca qua tra l'allero l'ero la ci servono cose ci servono del cibo del cibo scutti only for me torta for me la mamma di irox for me ok io direi di stoppare qua questo episodio perchè è molto lungo l'isoletta del ferro la vedi la jag guardami eh lo so lo so ma mi servono cose allora no non stopperemo continuiamo e ti facciamo tipo con il croco si si esatto cosa che volevo fare ah già uccidere jaguar no quello non era in programma scale everywhere la mina ci fanno a me aia 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 oh ok eh si eh mia mia vabbè va fa culo io una volta non avevo una non arrivo eh non arrivo eh la mia un attimo dato converso con i miei e ho detto mutati quando conversi con i tuoi tuoi no non ho voglia di conversare con i miei non ho voglia di conversare con i miei non ho voglia di conversare con i miei non ho voglia di conversare che sto facendo impaziente dove hai finito quello aspetta è volato giù allora lì c'è un probabile scheletro che mi ha puntato botti e me gusta un arco che figato ho un arco uno e dieci frecce quattordici bellissimo perfetto arrivo eh si si domani che stronzo che senti cosa no è esploso tutto tutto cosa eh sapessi non so occupati un po' di di alberi ripiantali occupati un po' di alberi per i alberi con i alberi scusa non parlo alla tua lingua stranger 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 non so da dove l'ho stranger alla resident evil ragazzi ehm ho scaricato pure gta4 quindi farò dei video così a cazzeggio con i mod con tutto la cosa che gli dice meglio ragazzi cazzeggiare già se mi cade ancora un crito l'interno ma vado ti devo andare ti da quindi per forza ecco mmm boh già cosa che fa fa le sue suoi pensamenti devo ancora dire no cazzo gridi cazzo fa aspetta un secondo eh arrivo subito intrattene il pubblico e uccidì quella zombie arrivo stranzo ok vieni qua stranzo ahahah ok mi volevi trollare non se sei riuscito io devo andare praticamente di là ma pure in quella piccolissima isoletta ci sono i mostri addio ok 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 calmati già guarda calmati ci serve tanta roccia ragazzi per andare nel nell'isoletta di ferro eh si non dobbiamo andare troppo in su perchè dobbiamo fare una base sotto il ferro così non ci cade ma sono dettagli signor come il posto e il gioco cos'era com ecco perfetto non non basta mai questo copso mamma mia con te strade che abbiamo fatto mio dio c'è adesso questo cosa è mio ok mi appartiene siamo intesi? siamo intesi che è mio? no la freccia mi ha catturato no no streccio esci oh mio dio io tipo stavo giocando con la freccia freccia entro sicuro controllo bene si entra entro fai scheritruti merda cioè è bruttissimo queste cose oh mio dio mamma mia cioè una cosa allucinogena no quello lo metterai a rally dammi tutto il cobblestone cosa va a darti cobblestone perchè non si forma più cobblestone dai tu te le cobblestone e arrivo fammene fare oddio ho rotto con cosa è quello che hai stipo ok oh stasera oh stasera oh stasera oh mio dio ahi fatti vedi che c'era posso sicuro posto dammi fuori da rosa posso sicuro ok ci sono io sì cosa vuoi non ignorarmi chi è che mi chiama ma dove chi è che mi chiamo ma dove qui lo sto prego non ignorarmi allora andiamo là mi sto chiedendo guarda quanti mostri mio dio oh mio dio quel tipo dove è finito ti odio ti odio ti odio metti quei pezzi no non c'è pezzi neanche te no 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 tu vabbè te ne vabbè attento caddy 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 chico oddio posto felice posto felice posto felice no arrivano pure gli zombie adesso fosrata fosrò gioco fosrò si è ma le quel crie per guarda quel crie per vai fosrò guarda la città fosrò un grado anche io beccatela vuole che non dobbiamo ma che cazzo hai ok basta dovevo fare un po' più in atto comunque i i miei mi puoi dare il cobre sto s*****o ahahah se l'ho usato mi sa tanto se l'ho usato non si deve perchè mi hai fatto perdere tempo allora non lo so mi piaceva l'idea di farti perdere tempo com'era attraverso io adesso oh ho due cobre stanno ah guarda si aiutami aiutami cosa non ci sento lì c'è un enderman dove? ok da guarda un enderman oh cazzo no se si teletrasporta se non è la merda dov'è eh dov'è l'enderman? jaguars dov'è l'enderman? è nell'isola ma non lo vedo guardati in giro non ce la parte oh cazzo eccolo sto uccidendo un enderman oh ciao grazie grazie mia bastardo io mi sono preso l'ex io ho 12 di ex quindi non farmi morire 12 di ex not bad te? ne ho un po' zero no ne ho sei allora devo andare a fare che cosa? non mi ricordo più ah già devo andare a fare quelle coblesse adesso dove ti devo andare che isolati mancano a esplorare? tante tante mi mancano due leve stronzo stronzo devo torcificare il posto prima arrivo a tipo 64 no tanti scheletri morite prima vieni zombie ti faccio fuscelo da bravo vieni fuscelo da allora sei morto ok ok il micelio si è completamente espanso capito? cosa? il micelio si è espanso bello ma hai fatto il fungo rosso gigante? eh ora vado a farlo ok ok questo è un piccolo bug di luce odio questi bug di luce che ha minecraft perché? buh tipo vedi tutto illuminato e solo in un cubo è tipo buio ma hai te i funghi rossi perché io non ne ho più non ci credo no non ce li ho io ho sbagliato perché? ho usato il fungo rosso per fare il mushroom è la cosa nooo stai scherzando noo perché non pensi mai di quello che fa irox? sai che me lo dicono in tanti? che merda vabbè dettagli direi che facciamo qualcos'altro dov'è? perfetto zucca è for the win zucca? for the win ah si zucca tipo qua? ah! stronzo di zucca di di carbone e di ferro ce la puoi fare ho perso un ferro ho due ferro tu vieni qua tu vieni qua ok ho sì di ferro ok do che mi basta già qualsiasi è parecchio strano perché? quelle volte mi spaventa ok perfetto dobbiamo andare nell'isola giungla che io non mi ricordo dov'è è qua è l'isola mushroom ah ecco la giungla che mushroom si si il mushroom che mushroom che c'entra il mushroom il fungo allora se mi ricordo bene avevo tolto una leva dalla clay dal notare il suo dalla clay dal clay dall'isola clay allora c'era un ah perfetto allora abbiamo due leve uno è di là e uno è di là perfetto adesso faccio un 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 Grazie.